ebbene sì ebbene sì è tornato il voucher digitale che cos'è te lo spiego in questo video e ciao amici benvenuti tutti in questo video come vi ho detto è tornato il voucher digitale per chi se lo fosse già perso il mio video precedente metto qui sopra qui sotto va bene vi racconto cosa è il voucher digitale il voucher digitale è un bonus che vi dà lo stato è molto semplice da richiedere basta fare una connessione nuova internet questo voucher digitale è dedicato soprattutto alle aziende quindi se hai una partita iva se hai un'azienda srl quello che sia anche ditta individuale è l'occasione buona di avere una connessione internet a costo veramente veramente basso si arriva addirittura a costo quasi zero per chi ha la fibra fino a 2,5 gigahertz questo voucher per il momento è va è ritornato nelle marche era già presente prima infatti ho fatto altri video che spiegavano meglio le offerte tutto quanto però adesso è stato riaperto stato riaperto sia per chi ha la fibra ottica ovviamente e sia per chi ha la fibra misto rami le ft tc lo sconto è diverso ovviamente però potete aderire a questa grande offerta potete arrivare fino a pagare 15 euro al mese per una connessione internet per il vostro ufficio per la vostra casa l'importante è che abbiate una partita iva se voi volete vedere volete informarvi servire di più vi lascio qui sotto il link in descrizione per contattarmi vediamo la vostra copertura vediamo che tipo di servizio vi possiamo dare e scegliete quello che vuole scegliete avete lo sconto perché la richiesta viene fatta subito in automatico non c'è bisogno che andate dal commercialista richiedere questo è un unico foglio che vi faccio filmare io al momento del contratto è molto semplice mette la firma e tutto e il gioco è fatto quindi non mi resta che contattarmi questa offerta è veramente limitata perché so che è stato aperto ma non so quando verrà chiuso quindi affrettatevi a contattarmi specialmente se siete imprenditori partitevi nelle marche vediamo la vostra copertura vediamo la vostra offerta che possiamo farvi e mi raccomando iscrivetevi al canale lasciato un like e ci vediamo ai prossimi video ciao a tutti da andrà lanciotti il vostro tecnico digitale ciao